Ciao, il mio nome è Nirava e ho il piacere di lasciare qui la mia testimonianza. Ho partecipato al corso di formazione in Costellazioni con Marco Massegnani e Elena Dell'Orto ed è stato un viaggio potentissimo. Come ci sono arrivata? Anni fa avevo letto il suo libro, il primo libro credo che abbia scritto sulle costellazioni e già leggendo il libro ho sentito veramente un richiamo forte anche perché vedevo la completezza del lavoro proposto, costellazioni, sciamanismo, quindi ritualità e lavoro di risoluzione di traumi. Quindi sono andata a fare un seminario dopo un po' insomma quando sono uscita a trovare una data disponibile ed è stato illuminante. Infatti ho fatto quel seminario e su mia sorpresa poi subito dopo mi sono iscritta alla formazione, ho sentito una chiamata molto forte ed è stato veramente un cammino intenso, profondo, anche in salita, difficile in certi momenti ma è stato di grandissimo sostegno i momenti della mia vita che sono stati parecchio turbolenti e se non avessi fatto quel tipo di cammino, quel tipo di percorso non sarei qui a raccontarlo. Quindi è stato veramente un contributo molto 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 forte, valido e prezioso per quello che è la mia crescita, infatti sono cresciuta tanto e vedo tuttora i frutti, anche adesso qualche anno che ho terminato questa formazione, ma proprio vedo ancora i frutti che emergono da questo cammino e dai segnamenti che sono proprio, si sono impressi radicate dentro di me che sono proprio dei fari. Inoltre non soltanto ha portato guarigione nell'ambito della mia famiglia ma proprio ha portato guarigione, trasformazione anche in altre aree della mia vita, nelle relazioni, nel lavoro e oltretutto ha aperto proprio delle finestre e anche mi occupo di crescita personale lavorando con le persone veramente mi ha dato veramente una marcia in più, quindi sono veramente grata a questo a questo percorso, a questo lavoro, sono grata veramente tantissimo a Marco e Irina per la loro maestria, per la loro devozione, per la loro mission. Credo che questo tipo di cammino, questa esperienza, credo che qualsiasi persona che abbia intrapreso, ha intrapreso un percorso di crescita personale, il percorso della consapevolezza, ha da camminare questo sentiero. Grazie, grazie, grazie. Grazie.